Linux è un sistema operativo multiutente e capire bene i concetti di utenti, gruppi e permessi è fondamentale per utilizzare il sistema al meglio. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux e di programmazione. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Ogni utente sotto Linux è identificato da uno user ID numerico e da questo ID numerico è associato un nome utente. Ogni utente è membro di un gruppo primario e questo gruppo è sempre identificato da un ID numerico e da un nome associato. Oltre al gruppo primario, un utente può essere membro di più gruppi aggiuntivi e più avanti in questo video vedremo come essere membro di più gruppi possa essere molto utile. L'utente con user ID 0, convenzionalmente chiamato root, è speciale poiché si tratta dell'amministratore di sistema. A differenza di tutti gli altri utenti che sono limitati dai permessi fornitigli, root può fare tutto ciò che vuole senza alcuna limitazione. Attenzione però, perché senza alcuna limitazione è molto facile fare danni al sistema. Per questa ragione, sotto Linux, anche se sei l'unico ad utilizzare il tuo PC, normalmente utilizzi un utente non privilegiato e ricorre root temporaneamente solo in quei rari casi in cui i privilegi dell'utente normale non sono sufficienti per portare a compimento c'è che avevi intenzione di fare. Per ottenere temporaneamente i privilegi di root hai a disposizione due comandi simili ma con delle differenze importanti. Col comando su è come se facessi login come root, quindi ti verrà chiesta la password di root. Solitamente si invoca su con l'argomento meno, per avere le variabili d'ambiente settate correttamente per l'utente root. Su alcune distribuzioni, tipo Ubuntu, l'utente root è disabilitato, per cui il comando su non funziona. Il comando sudo viene usato per eseguire un comando con privilegi di root. A differenza di su, sudo funziona anche con l'utente root disabilitato. Difatti, la password che ti verrà chiesta quando esegui un comando con sudo non è quella di root, ma la tua. Perché tu possa usare sudo, però, è necessario che il tuo utente sia abilitato ad usare sudo. Il file che configura gli utenti abilitati ad usare sudo è etch-sudoers. Visto che vedo molta disinformazione in giro, ti dico che se vuoi una shell con privilegi di root, usando sudo il comando corretto da dare è sudo-i, non complicarti la vita inutilmente. Ora che hai capito cosa è sudo, non fare come ho visto di gente che copia e incolla comandi da chissà quali forum senza sapere cosa sta facendo e quando un comando non funziona prova ad avviarlo con sudo. O peggio ancora, ho visto persone che mettono sudo prima di ogni comando giusto per essere sicuri. Ripeto, sudo serve per eseguire un comando con privilegi di root e se non hai bisogno dei privilegi di root, usare sudo può essere dannoso. Vedremo più avanti in questo video che ci sono dei casi in cui sembra che tu abbia bisogno dei privilegi di root, ma in realtà esiste una soluzione migliore e più sicura. Strettamente legato al concetto di utenti e gruppi sono i permessi sui file. Per capire come funzionano i permessi sui file vediamo l'output di ls-l. Possiamo interpretarlo come una tabella. Partiamo dalla terza colonna, che indica il proprietario del file. La colonna successiva è il gruppo proprietario del file. Queste due informazioni ci servono per poter interpretare la prima colonna, cioè i permessi del file. I permessi del file a loro volta si dividono in quattro gruppi. Il tipo di file, i permessi del proprietario del file, i permessi degli utenti membri del gruppo del file ed infine i permessi di tutti gli altri utenti. Ignoriamo il tipo di file che esula dallo scopo di questo video e vediamo nel dettaglio i permessi. I permessi possibili su un file sono R, permesso di lettura, cioè se un utente è abilitato o no a leggere il contenuto di un file. W, permesso di scrittura, cioè se un utente è abilitato o no a modificare un file. Oppure, nel caso di una directory, se un utente è abilitato o no a creare e cancellare file all'interno della directory. X, permesso di esecuzione, cioè se un utente è abilitato o no ad eseguire un programma. Oppure, nel caso di una directory, se un utente è abilitato o no ad accedere ai file contenuti nella directory. Oltre a questi tre permessi, che valgono allo stesso modo per proprietario, gruppo e altri, ci sono altri tre permessi che valgono uno per il proprietario, uno per il gruppo e uno per gli altri. E sono SetUserID, lettera S nei permessi del proprietario al posto delle X Un file eseguibile con bit di SetUserID settato, significa che il programma verrà eseguito con i privilegi del proprietario. Solitamente è utilizzato da quei programmi che necessitano dei privilegi di root, ma vengono eseguiti da utenti normali. SetGroupID, lettera S nei permessi del gruppo al posto delle X Questo bit solitamente viene utilizzato sulle directory, e fa sì che tutti i file creati all'interno della directory prendano come gruppo il gruppo della directory stessa. Questa è un modo per condividere file tra più utenti all'interno della stessa macchina. E infine StickyBit, lettera T nei permessi degli altri al posto delle X Questo bit solitamente viene utilizzato per la directory TMP, e significa che un file all'interno della directory può essere eliminato solo dal proprietario del file. Senza StickyBit, invece, chiunque ha permesso di scrittura all'interno della directory può cancellare qualunque file, indipendentemente dal suo proprietario. Torniamo quindi al nostro esempio di ls-l e vediamo per il file vmlinus eccetera eccetera che il proprietario, cioè root, ha i permessi di lettura e scrittura. I membri del gruppo root hanno il permesso di lettura e tutti gli altri utenti hanno il permesso di lettura. Vediamo per i directory scaricati che il proprietario, cioè free, ha permessi di lettura, scrittura ed esecuzione. I membri del gruppo free hanno permessi di lettura ed esecuzione. Come visto prima, per il directory solitamente i permessi di lettura ed esecuzione vanno a bracetto perché oltre che vedere quali file contiene questa directory, permesso di lettura, sono interessato anche ad accedere al contenuto dei file contenuti in questa directory, permesso di esecuzione. Gli altri utenti hanno permesso di lettura ed esecuzione. Veniamo ora al file midi1. Il proprietario, cioè root, ha permessi di lettura e scrittura. I membri del gruppo audio hanno permessi di lettura e scrittura. E tutti gli altri utenti non hanno nessun permesso, cioè non possono accedere al file. Il file midi1 è un device che corrisponde a ingresso e uscita midi dalle mie schede audio. Ora, se io normalmente sono l'utente free, non posso accedere all'interfaccia midi. Come faccio? Ho due opzioni, una sbagliata e una giusta. Quella sbagliata è quella di eseguire con privilegi di root l'applicazione che voglio usare per il midi. L'opzione giusta, invece, è quella di rendere l'utente free membro del gruppo audio, di modo da poter sfruttare i privilegi del gruppo datimi da questo file. Come curiosità, ti mostro che un simlink normalmente ha tutti i permessi settati, tanto poi verranno utilizzati i permessi del file a cui sta puntando. Il programma sudo, vedi che ha il permesso site usali di root, perché per poter dare la possibilità di eseguire programmi con privilegi di root, ovviamente, è necessario che sudo abbia anzitutto i privilegi di root. La directory TMP, come ho visto poc'anzi, ha lo sticky bit. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao.